Un cordiale saluto da Andrea Biagione di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 11 dove a causa di animali in strada si registrano rallentamenti tra Monte Cateniterme e Pistoia in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Rosignano Marittimo che è chiuso in entrata e in uscita in direzione Livorno. Sul raccordo Siena Firenze invece ancora a causa di lavori in vigore restringimenti di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve e Inchianti in entrambe le direzioni. A Firenze a causa di lavori di ripristino dei chiusini all'altezza del sottopasso di Viale Fratelli Rosselli restringimenti di carreggiata con possibili disagi alla circolazione. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana e realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!